Oggi per la rubrica Leggiamo i filosofi leggerò con voi e per voi un brano di Bersant, il grande filosofo spiritualista francese, un brano tratto dal saggio sui dati immediati della coscienza, opera manifesto di Bersant, opera in cui il filosofo francese ci presenta la differenza tra il tempo oggettivo della scienza e il tempo soggettivo della vita. Ed è proprio il passaggio in cui vi è la differenza tra l'orologio esteriore e l'orologio interiore quello che ho deciso di leggere per voi. Quando seguo con gli occhi sul quadrante di un orologio il movimento della lancetta e corrisponde alle oscillazioni del pendolo non misuro la durata come potrebbe sembrare, mi limito invece a contare delle simultaneità, cosa ben diversa. Al di fuori di me, nello spazio, ve un'unica posizione della lancetta del pendolo, in quanto non resta nulla delle posizioni passate. Dentro di me si svolge un processo d'organizzazione o di mutua compenetrazione dei fatti di coscienza che costituisce la vera durata. Mi rappresento ciò che io chiamo le oscillazioni passate del pendolo, nello stesso tempo in cui percepisco l'oscillazione attuale proprio perché io duro in questo modo. Sopprimiamo ora per un istante l'io che pensa a queste cosiddette oscillazioni successive. Avremo sempre una sola oscillazione del pendolo, anzi una sola posizione di questo pendolo e quindi nessuna durata. Sopprimiamo d'altra parte il pendolo e le sue oscillazioni, avremo solo la durata eterogenea dell'io, senza momenti esterni gli uni agli altri, senza rapporti con il numero. Così nel nostro io vi è successione senza esteriorità reciproca, al di fuori dell'io esteriorità reciproca senza successione. Esteriorità reciproca in quanto l'oscillazione presente è radicalmente distinta dall'oscillazione precedente, che non è più, ma senza di successione, in quanto la successione esiste solo per uno spettatore cosciente che ricordi il passato e giustapponga alle due oscillazioni i loro simboli in uno spazio ausiliario. Con questa immagine Berson ci presenta proprio il tempo dell'orologio e il tempo interiore. Il tempo dell'orologio è il tempo numerabile e il tempo esteriore fatto di tanti istanti che si succedono uno dopo l'altro, ci dice in questo passaggio. E' dunque un tempo spazializzato, raffigurante sul quadrante dell'orologio dove le lancette segnano sempre un determinato istante, un tempo spazializzato, sempre uguale, un tempo dunque oggettivo. Il secondo tempo, il tempo interiore della vita, è quello che restituisce a noi l'idea del fluire della vita, ci presenta l'idea della continuità della vita, il tempo della durata, il tempo di cui si occupa la memoria, che congiunge costantemente il presente con il passato ed elabora aspettative per il futuro. Il tempo oggettivo, il tempo della scienza, il tempo dei secondi, dei nanosecondi, il tempo della corsa dei centometri, è un tempo tutto uguale, spazializzato e deve stabilire chi è arrivato primo, di quanti anche decimi di secondo, deve stabilire quanto è durata l'oscillazione di un pendolo, quanto è durata la caduta di un grave e dunque ogni secondo è uguale a quello prima e sarà uguale a quello dopo, il tempo spazializzato, il tempo simile a una collana di perle tutto uguale. Ma poi vi è un altro tempo, il tempo interiore della vita che è assimilabile ad un gomitolo di lana, è assimilabile a una valanga che cresce da una palla di neve scendendo a valle si ingrandisce, la valanga diventerà dunque un insieme di stratificazioni, di neve, di neve, di neve, di oggetti che ha travolto. Il tempo della scienza è il tempo della collana di perle tutte identiche, il tempo della vita è il tempo del gomitolo di lana, bisogna srotolarlo per andare indietro nel tempo e ricordare e bisognerà poi accumulare altro filo per avere il continuo della vita e oppure la valanga, la palla di neve che è diventata sempre sempre più grande e andando sotto si riscopre il vissuto, un continuo. Ecco la differenza che vi è tra il tempo della vita interiore e il tempo della scienza. La concezione bergsoniana di tempo è ritrovabile in letteratura, in due capolavori proprio nel passaggio di secolo tra ottocento e novecento. La concezione bergsoniana di tempo è presente ad esempio nel capolavoro di Proust alla ricerca del tempo perduto. Il narratore del tempo perduto, è un uomo maturo di età imprecisata che una notte di insonnia rievoca il mondo della propria infanzia affollato di immagini variegate senza rispettare la ricostruzione storica dei fatti, ma parte da sensazioni e il sapore di biscotti inzuppato nel tè del tutto simile a quello che gli veniva offerto da bambino, cioè una percezione gli restituisce l'atmosfera di Combré, la cittadina francese in cui aveva trascorso molte molte state la sua infanzia. Dunque il tempo che vi è nell'opera di Proust, la concezione di tempo che vi è nell'opera della ricerca del tempo perduto, una concezione di tempo bersognana, il tempo della vita è un fluire, un costante fluire. E poi vi è un altro romanzo, Ulisse di James Joyce, che recupera il concetto bersognano di tempo. Nel romanzo Ulisse James Joyce mette in scena appunto attraverso la tecnica del flusso di coscienza i pensieri del protagonista, che fluiscono, che fluiscono. Ecco la concezione di tempo come continuità, come flusso. E James Joyce riporta sulle pagine i pensieri, la memoria senza alcuna mediazione, evitando appunto la mediazione di un io penso cartesiano o kantiano, di un io penso dunque che spazializza, quantitatizza. E dunque nel romanzo James Joyce contraviene ogni regola del tempo cronologico. Gli avvenimenti si snodono a partire dalle sensazioni, dalle emozioni, dai ricordi del protagonista. E i personaggi sono intrecciati a partire dalle emozioni, non da una cronologia oggettiva e spazializzata. Ecco dunque che la filosofia bersognana, lo spiritualismo bersognano, come reazione al positivismo, ci mette di fronte a una concezione di tempo estremamente intima, fatta di continuità, fatta di ricordi, di percezione dell'anima, che riporta la filosofia alle confessioni di Agostino, riporta le nostre riflessioni al grande Agostino, la sua concezione di tempo come appunto mutamento dell'anima e percezioni che ha l'anima. La filosofia di Berson, la concezione di tempo di Berson ritorna al tempo come fluire, come flusso, come continuità e la scienza non potrà mai cogliere in profondità il tempo interiore, perché il tempo interiore non è spazializzabile, non lo si può spazializzare, non lo si può quantificare, non lo si può codificare. Questa è la fluidità della vita, questo è il continuum della vita tra presente e passato e aspettative appunto di futuro. La concezione di tempo di Berson influenzerà dunque quella letteratura, come poi influenzerà anche la pittura, non la pittura, la pittura anche di Salvador Dalì, che è influenzata da un lato dalla dimensione onirica dell'inconscio di Freud e poi della dimensione del tempo come fluidità, tempo interiore come appunto scorrere incessanti di Berson e comunque che tra 800 e 900 la filosofia bersoniana, grande maestro di filosofia, rappresenta proprio una originalità, un punto di svolto originale all'interno del pensiero contemporaneo.